Una furia cieca, quella con cui un 62enne, già noto alle forze dell'ordine, mazza da baseball in mano, ha devastato il pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. E piena notte, l'uomo arriva al nosocomeo per una sospetta abbronchita della figlia di 19 anni. L'assistenza, però, a giudizio dell'aggressore, non è sufficientemente tempestiva. La ragazza sta aspettando da troppo tempo. Scatta una violenza barbara, l'uomo afferra l'oggetto contundente ed inizia a sfasciare tutto ciò che gli si para davanti, colpendo più volte le porte della struttura. Non pago, a questo punto entra nell'ufficio del medico di turno e colpisce violentemente la scrivania. Qualcuno compone il 112, mentre la guardia giurata in servizio prova a disarmare il 62enne, avendo però la peggio. Bilancio, 10 infermieri ed un medico in stato di agitazione ed ansia ed il vigilante con una distorsione ad un dito della mano. Una notte di follia, insomma, che ha visto 12 persone in servizio nel pronto soccorso dell'ospedale finire ad essere pazienti dello stesso presidio. All'arrivo dei militari l'uomo è finito in manette e ora in carcere in attesa di giudizio. A ricostruire i concitati momenti è Pietro Di Cicco, direttore della medicina d'urgenza del San Leonardo. Un pazzo, devo solo definirlo, un pazzo violento. Ha aggredito la dottoressa che era di guardia nei codici verdi in maniera improvvisa, senza alcuna dichiarazione di minaccia o altro. Ha entrato e ha cercato di colpirlo violentamente alla testa. Noi già non abbiamo medici. La dottoressa è una giovane dottoressa che è venuta da due mesi a meno di 30 anni. Un'esperienza del genere devastante. Per cui facciamo tanto per trovare nuovi medici questo fatto, veramente distruggi il lavoro di un'azienda completo. Un fenomeno, quello delle violenze in corsia, non di certo nuovo. Secondo quanto denuncia l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, dall'inizio del 2024 sono già più di 40 le aggressioni ai danni del personale sanitario in servizio nelle strutture dell'Asla Napoli 1 e 2. Sabato scorso, un detenuto quarantenne del carcere di Secondigliano trasferito all'ospedale del Mare per un malore durante la dialisi, ha scatenato il caos all'interno dei locali del pronto soccorso, distruggendo monitor e apparecchiature. Due giorni prima, a dare in escandescenza nel nosocomio di Pozzuoli, un paziente che pretendeva di essere ricoverato in psichiatria ed ancora il 7 agosto un uomo di origine egiziane ha colpito con un calcio in petto un'infermiera.